Il clou di questo pomeriggio, quattro anni sul doppio chilometro, Amber Danny Griff a duemila e sessanta, Ultra di Casei, Usain Goget, Ulisse, Urali, Urbis, Par, a duemiliottanta Uragano Thor, resta a casa Urla Jepson, corsa molto aperta, molto interessante, è il clou di questo pomeriggio, cavalli in pista grande. Usain Goget, sollecito tra i nasti, parte alla grande anche Urali, che punterà subito in avanti probabilmente, ma ora deve prendere un attimino, poiché viene anticipato e Urali si accuda, rimane a largo Ulisse, in seconda posizione, Ultra di Casei, si completa il lancio nell'ordine del quindici e un po' di spiccioli e Ulisse va a parcheggiare dietro a Dinardo con Urbis Par, lunga fila indiana e si va dopo quattrocento metri di gara in ventinove e mezzo e l'andatura è sollecita, il jet di Gallucci al comando, ha avuto problemi Amber Danny Griff, i cavalli affrontano la seconda curva, 600 in 44 e mezzo, una frazione in 15 e il buon ragioniero la mette sul passo e siamo al completamento della piegata, Minopo ogni tanto mette il nasino fuori per farlo un pochettino respirare al suo Urali. Un minuto abbondante il mezzo miglio e cavalli al completamento quasi del primo chilometro, non ci sono variazioni sostanziali ma è duopo poiché l'andatura è brillante. Primo chilometro sul mio in 15 e 4 e cavalli che affrontano la penultima curva con Usengo, Ultra, di Casei Urali praticamente come son partiti. Mezzo miglio alla conclusione, una frazione impiegata in 15 e 4 e di fronte Urali nuovamente il nasino fuori, Usengo oltre di Casei Urali Urbis Par. Andiamo a leggere un po' questa frazione, 14 e mezzo. È venuto via Ulisse a coprire Urbis Par. Chiude il gruppo Uragano Tor, si va al miglio, 1,59 e qualche spicciole e ora viene via deciso Ultra di Casei per anticipare Ulisse, guadagna di dentro Urbis Par. Completamento della curva finale, l'allievo di Improda passa, si allunga, interviene a largo e cerca l'aggancio Urali. Urali va su Ultra di Casei, lotta incerta tra i due, ma è il francesino che si afferma nettamente. 13 e 1 l'ultimo chilometro, almeno sul mio, 1,14 e 9 l'ufficiale, Urali si riconferma o si conferma un fior quattro anni e ora può anche puntare un po' più in alto della generazione. Per il terzo Ulisse Urbis vicino, alla grande anche Ultra di Casei, ma vincitore a tutti gli effetti e con grande veramente go go baby go, Urali, targato SM, Minopoli Inzalchi, totalizzatore 3 euro in chiusura. Lini allo studio.